insomma oggi non ho proprio chiacchierati neanche un po santa poletta non è vero avevo preparato un vocaletto al volo e poi mi sono messa ad armeggiare con il ring con il mio tagliabiscotti con il breccetto estensibile reggi telefono per cercare di recuperare un briciolo di segnale wifi nella mia terrazzetta cioè se io vado nella piazzetta sotto casa ho segnale fino dai vicini io sono a casa mia ma in linea d'aria c'è un niente dal modem alla mia terrazzetta o niente c'è niente da una lotta oggi e quando ho finito di lottare con il morsetto messo a testa in giù volevo fare anche una recensione pessima di quel braccetto comunque lo faccio perché non è proprio cosa mi scappa da tutte le parti mi scivola di qui mi scivola non si blocca vabbè comunque il morsetto l'ho messo al contrario e quindi non si bloccava con le lamelle interne dove dovevo abitare vabbè insomma una strafila tutto tutto un picciante tirando accidenti parolacce mi volava tutto una tormenta perché volevo seguire la live con la scuola di punti di luca sforza perché poi proporrà una maglietta tra l'altro luca mi sa che abbiamo la stessa taglia con la mamma ecco mille robe da fare però mi piacerebbe insomma volevo stare in compagnia del di luca del del suo pubblico insomma mentre avevo da fare le mie cose e zero proprio non c'è stato verso come ho finito che ho detto va bene mi sono spostata io ho spostato il tavolino allungato il braccetto sono riuscita a bloccare che in modo che non mi volasse via il telefono niente era già finito tutto era già tutto previsto cantava riccardo cocciante e niente è andata così oggi e poi ho assistito a una sbruffata della mano ma no ma dai su forza forza e coraggio lo so a volte ci facciamo prendere dalle provocazioni ma sono proprio mirate non bisogna arrabbiarsi ci sono caduta però non ci voglio cadere più perché tanto poi si palesano che sono proprio delle delle mirate proprio per far arrabbiare non è proprio il caso insomma e quindi mi sono sentita di dire la mia perché poi non è che bisogna condividere proprio tutto con le persone che ci piacciono che fanno delle cose diverse da noi uguale a noi ma ma ovviamente quando una persona ci mette tutta la sua buona volontà a volte a travisare ci si mette proprio di ci si vuol mettere di impegno è stata bravissima a spiegare quello che era giusto spiegare quando si descrivono le peculiarità di un filato e facendo delle raccomandazioni non vuol dire dare addosso né a chi lo produce a chi lo distribuisce e tantomeno al filato stesso ma ci sono dei filati che possono dare degli ottimi risultati poi anche lì è questione di gusto ci sono dei filati che vanno per la maggiore a me non piacciono e questo vabbè e che vuol dire ma ci sono dei filati che sono semplici da acchiappare con i ferri o con l'uncinetto ci sono filati come ho dimostrato che bisogna un attimo studiarseli che non possiamo approcciarli come siamo abituati con filati tradizionali con torsione tradizionali vedi certi filati fantasia ci sono filati che si prestano più per una lavorazione che per l'altra e quindi far notare queste cose non vuol dire mettere sul chi va là le persone vuol dire aiutare le persone a fare un acquisto ragionato ci sono dei filati che anche ai proprio i provetti possono provocare dei fastidi anche perché magari uno può avere grandissima esperienza saper fare le capriole per aria carpiate tuffate riprese stoppate per aria con uncinetti ferri e tra l'allero ma magari non aver voglia di affrontare certe cose certe chiamiamole anche difficoltà a volte oppure maggiore attenzione è così non so se avete mai provato a lavorare contemporaneamente con più gomitoli che conviene far così se non sia non si è bravi a raggomitolare più fili insieme perché devo dire che quello che finora io ho toccato è i prodotti lo crea e ne ho maneggiati diversi anche di natura diversa non solo per qualità di fibre ma proprio per realizzazione sono tutti ben fatti ho fatto i complimenti perché sanno scegliere sanno far divertire e quello che è importante in questo momento veramente è non rinunciare a certe qualità e poter risparmiare questo vuol dire poterne assaggiare di più questa è una buona occasione per poter assaggiare certe tipologie e quindi poi capire se fanno per noi se quello che vediamo ci ispira risparmiando cioè contenendo la spesa più che risparmiando e quindi le key che questo era l'argomento di oggi nel canale della Manu perché adesso non mi viene in mente come si dice Manu perdona lei ha presentato un suo progetto chalet carino tra l'altro di quelli proprio che uno fa rilassare e va prendendo ecco che è veramente carino con una delle key che lo lo crea e ha raccomandato magari uno può acquistare quelle che o prendere un altro tipo di filato che possa tranquillizzare e quelle che sono fatte benissimo perché per comporre una key con un gomitolo con filati non ritorti tra loro è un guaione perché si rischia con uno o con l'altro dei tanti di lasciare indietro delle lunghezze e poi trovarsi con dei cancan da dover affrontare dei tagli da dover fare infatti quando contiamo di lavorare con più filati messi assieme quello che non bisognerebbe fare a meno che non si metta in conto questo tipo di problema sarebbe di comporli subito tutti insieme da soli da noi stessi intendo e conviene invece tenerli separati tenerli in contenitori in modo che non si aggroviglino tra loro io oggi ho fregato una fregate mia una scatola per il tè perché non avevo voglia c'ho un mar di testa sti giorni sono due settimane di salire le scale cercare le mille mille cose che ho per questo impiccio che è quello appunto di lavorare con i gomitoli da basso ho fregato questa scatola e l'ho messa in terra ci ho messo il mio gomitoletto giallo e conviene sempre appunto lavorarli in contemporanea perché mentre si lavora e loro sono ben ben distribuiti le nostre mani fanno proprio l'effetto del passafilo e quindi pettinano di tanto in tanto viene automaticamente da fare dopo i primi due tre impicci ogni tanto si pettina la mesh che le mesh che abbiamo in mano tra le mani con le quali abbiamo iniziato a lavorare ed ecco che cerchiamo di garantirci una uguale distribuzione del materiale proprio per non trovarci delle asole che scappano da tutte le parti e la mano questa cosa l'ha fatta notare perché è giusto perché uno dice va bene io sono le prime armi mi piace imparo anche a gestire questo tipo di prodotto perché a me piace concentrarmi ci sono tante persone che per staccarsi dai problemi cercano dei progetti complicati ma me viene al corpo anche no grazie infatti questo periodo lavoro tanto bene la mia sacca dove vado avanti una catenella mezza maglia alta una catenella mezza maglia alta non ho neanche da chiudere il giro perché vado su a spirale era quello che mi serviva ecco per fare certi lavori per seguire certi lace per seguire certe no le costruzioni non sono un problema sono proprio è proprio l'andamento dei motivi e dei punti quando soprattutto abbiamo tanti gettati quando abbiamo delle righe che cambiano in continuazione tanto a dritto quanto a rovescio e succede con certi pizzi io devo essere tranquilla sola in silenzio senza neanche il cane il gatto che mi chiami no infatti li faccio di notte quei lavori lì perché a parte che stanotte minussa svegliata tre volte fino alle quattro e mezza tre volte all'improvviso come un bambino quando agli incubi e la fate venire a me mi fate venire quegli scioponi che altro che crescita di capelli bianchi ecco quindi non siamo tutti uguali non tutti amiamo affrontare certe certe veghe non tutti amiamo certi lace anche se siamo molto bravi non tutti amano fare certi certi guanti con andamenti per tutti i versi non ho visto dei guantini che devo bravi io non farò mai e ci sono tanti lavori che non ho proprio intenzione di fare perché mi sento già male perché ci sono delle delle certe lavorazioni complicate che mi possono piacere ce ne sono altre che ne faccio sinceramente a me non lo dico sempre che non sono votata al martirio ecco quindi quelle bellissime cake è giusto dirlo se per chi non ha mai manneggiato tante varietà di fili per chi non ha neanche mai lavorato con tanti fili insieme anche suddivisi come consiglio di fare quel tipo di prodotto va ponderato proprio per amarlo proprio per farlo chiacchierare al meglio proprio per lavorare sapendo quello che andiamo a fare perché come ho mostrato durante la lavorazione della mia sacchetta in una delle ultime chiacchiere dove sto lavorando col medesimo filato doppio quindi da una parte ho un gomitolo che poi ci sono delle tecniche che ci permettono di doppiare quadruplicare se stuplicare lo stesso materiale lo stesso filato dalla stessa fonte senza suddividerlo in gomitoli esiste ma io in questo momento non ho neanche voglia di fare quello figuratevi come sto e quindi mi sono fatta su un bel gomitolo tra l'altro non ho sacrificato chissà quale prodotto è il cotone povero da orditi che ho in rocca da 800 chili non mi ricordo se pesava 5 chili comunque era un peso strano quando l'ho vista arrivare dalla sardegna ma vi parlo quasi di 20 anni fa mi sa che l'avevo ordinata che ero ancora a spezia quindi più di 20 anni fa sono 21 anni che vivo nel lazio quindi no di più quanti anni so che vivo nel lazio sono 23 anni che vivo nel lazio non me lo ricordo dal 98 che vivo nel lazio fate poi conti mi sa che sì sono 23 quindi figuratevi quanti anni ha quel cotone ecco quindi ho detto se mai mi avanzerà tanti sanno che io non butto niente che tengo anche le guigliate e quindi quello per me è un lavoro rilassante quindi siccome non dobbiamo dimostrare niente a nessuno credo no ecco allora facciamo le cose che ci piace fare come ci piace farle anche se le sappiamo fare ancora meglio se cerchiamo quando ascoltiamoci eh tum 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 vi ricordate nessuno mette in un angolo ecco quando c'è il tum tum prima del salto no perché dobbiamo saltare ascoltiamoci abbiamo voglia di far salto no e allora non ci ho lasciato lo fare a loro e noi lavoriamo come ci pare piace ci fa stare bene che non è sempre dalla stessa maniera e quindi cara mano tu hai spiegato proprio bene poi magari le persone le potranno ordinare anzi io vi consiglio di farlo perché mi piace un sacco ma mi dispiace usare la mia di cake super gigantona io ho una di quelle grosse 300 grammi è bellissimo perché tu vai avanti ci pensa lei a cambiare il colore non ci sono da fare delle giunte poi l'ho già detto che a me piace realizzare adesso ho la fissa per i quadrati e quindi ho voglia di realizzare delle cose che partono dal centro e che siano quadrate poi magari diventano anche rotonde ho trovato una tovaglietta da fare per il mio tavolinetto della terrazza che ve la farò vedere è russa quindi prima l'affronto e poi ve la faccio vedere poi magari facciamo anche un tutorial ecco indicando i vari filati e le varie opportunità che danno ai filati ho trovato tra l'altro un altro tutorial dove viene presentato uno scialle dove uno dei filati l'allocrea che sono andati esauriti subito il sock anche lì può dare delle belle soddisfazioni perché prima in italiano così ce l'avete già fatto secondo perché propone queste noccioline di punti allungati quindi nodi alte altissime dove un filato uno stoppino tinton stampa come il sock può dare il meglio di sé anzi da il meglio di sé con dei punti così perché noi ne beneficiamo totalmente e abbiamo a vista qualcosa che i filati molto ritorti possono essere altrettanto belli sono un'altra cosa e quindi facciamo esperienza mettendo proprio un risalto quel particolare del filato ecco e quindi mi sento il dovere di difendere la manu e le cake l'allocrea 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 perché sono dei buoni filati perché io quella che ho qua perlomeno la trovo bella soffice e luminosa e io amo lavorare con più fili insieme quindi l'hanno già fatto per me è fatto perfetto è tutto insieme ma chissà meglio di me perché sono fatta così perché mi piace perché fa parte del mio creare no come avete visto sempre nella sacca del relax nel sedere diciamo che partito quadrato al quadro appiccicato con gli spigli alla sacca alla sacca fa chiro perché viaggio con questi spigli che potrei toglierla con quella formella da lì sotto no invece no ce la lascio con gli spigli infatti mancabilmente mi faccio male mi graffio mi buco e la parte sotto l'ho lavorata con due fili di questo cotone con due capi di questo cotone bello ritorto che fa motivo quella torsione le torsioni fanno motivo perché non sono tutti uguali non solo perché uno è più mollo uno è più duro uno è più lucido uno è più pacco ma anche perché la torsione mostra molto cambia il punto cambia l'effetto estetico del punto e ho aggiunto anche un capo di viscosa spalmata albicocca non ho trovato l'albicocca ho trovato quella mattone però magari uso quella mattone nel bordo e non aggiungo altro visto che lei più intensa come colore poi stavo ragionando ma perché l'ho fatta di questi colori che il mio ombrellone sono tutte tonalità fredde non lo so forse perché avevo tanto materiale non ce l'avevo voglia di pensare e quindi l'ombrellone lo porteremo anche così anche se non è proprio ben intonato alla sacca non ci importa magari ci infilo una riga blu ecco fatto che lo leghiamo in qualche modo vabbè non lo so non mi interessa ho proprio bisogno di un lavoro che non mi fa far fatica che non mi fa pensare e che mi dà un suo ritmo quindi una catenella mezza alta una catenella mezza alta una catena vado avanti fino all'eternità mi ritrovo con la barba bianca i capelli siamo lì lì adesso è brizzolato tutto va bene e quindi non dobbiamo accettare le provocazioni non dobbiamo manu ma chi ti vuol bene ma le persone si capiva si capisce tutto bene non accettare tu rispondi con il minimo indispensabile di modo che chi magari non ci arriva proprio tanto di suo ma lascia perdere poi ribadisci con intelligenza come sai fare il minimo proprio boom e poi basta perché poi uno la figura non ti arrabbiare non ti arrabbiare la mia sigla preferita come mi piace mi metto a ballare quando la sento grazie che me la voressi mi hai dato il permesso di rubarla ma non ci penso neanche perché poi no no quando vengo da te me la gusto e basta bene buona serata non so quanto ci mette la storospa a caricarsi oggi sono stata proprio parca lo so avevo tante cose da fare ho cucinato domani dovevo andare a roma vedermi con la mia bambina goderci una giornata insieme perché aveva un permesso extra di recupero e invece niente le previsioni sono terrificanti io devo fare un cambio non posso uscire all'alba perché non dormo già la notte fatemi uscire pure alle sei e mezza da casa povera me e quindi mannaggia il fatto di stare mezz'ora sotto la pioggia ad aspettare una coincidenza che poi non coincidono mai però ecco per fortuna da Viterbo non arrivano mai in ritardo tranne quando le pecore si mettono sui binari è successo pecore in muc e quindi aspettare mezz'ora dove magari non c'è una sala d'aspetto sotto l'acqua il temporale con la menu anche no grazie domani il temporale è previsto e mi dispiace perché avevo cucinato degli sformatini perché una la mia amica delle uova che io ho tante amiche delle uova una delle mie amiche delle delle uova mi ha regalato questa mattina una decina aspettate 4 e 4 8 8 e 6 8 e 6 fa 14 14 uova semi rotte che succede le vecchietta no si rompono quando vanno e vanno a raccogliere belle tutte diverse quanto mi piace e quindi mi raccomando te le regalo solo se le usi subito le hanno appena raccolte ma perché scherzi ho fatto subito due dolci e gli sformatini di spinaci ho già gli spinaci cotti dei nelle nei pirottini in silicone fatti a margherita che carini per la mia bimba da portare via domani e ciccia surgelo tutto anche la torta che l'ho fatta con la mia confetta no l'ho fatta ci ho messo delle gocce delle cucchiaiate delle cucchiainate di confettura di rose che ho fatto e sono contenta adesso vado a caccia di rose sono tornata a caccia di fiori da caccia le ho riaccolti ho trovato anche quelli che qua chiamano petti d'angelo me li metto nell'acqua io amo i fiori in casa e quindi che fa un freddo cane fuori ho due golf ho un cardigan spesso un golf e un'altra maglia non so se rendo ma va bene a me piace non accendo la stufa l'accenderò domenica quando arriva la camilla che viene la mamma domenica forse speriamo non succede qualcosa va bene ecco era tanto è che non chiacchieravo di qua dalla cucina con il mio tagliabiscotti ecco poi mi piace questo colore che ho davanti sono tutti filati l'allocrea no tranne questo questo non lo è questo è un cashmere questo è un bellissimo cashmere poi il resto sì c'ho voglia di far tante cose ma queste due settimane ho fatto poco perché quando sono così capò che mi fa male tutto dal naso alle ossa intorno alle ossa degli occhi no tutta tutta la mia il mio cranio e le spalle e i gomi tipo non lo so cosa è successo cosa ho mangiato che mi ha scatenato tutto sono delle allergie i pollini mi infiammano non mi viene la rinite però lo sento che il naso si tappa un pochino ma non ho la rinite per fortuna non mi si gonfiano gli occhi per altra fortuna però però ma taci sua ora ho triplicato la dose di vitamina c quotidiana adesso mi devo ricordare di prendere la terza e aumentato la distribuzione della curcuma nei vari cibi e poi ho fatto quattro salti due sternuti no fatto quattro salti due pirouette una grattatina alle orecchie fatto cucucu magari la formula magica funziona domani starò meglio ciao ma quanto siete carini però ieri è stata la festa vostra perché siete voi che passate per i vocali io li faccio ma voi ci passate anche per i mutarelli quindi è stata la vostra festa grazie a voi ciao